Per Lorenzo ed Alessandro, però, che volevano e vogliono diventare pratolani per capire davvero che cos'è, chi è un pratolano, bisogna ascoltare le parole di un pratolano vero, uno che è vissuto cento anni fa, Zeffiro di Loreto. Sono un pratolano, beh, che c'è un riccio, forse caso Charluot, che abbazza l'America, me, pratolano, ha visto parte di Napoli che borsa i panze a sbotte, mezza vallati, buoni, spetta a prato delle più belle campagne, i perchezzi a ciucca, che non sapete me, uomini o femmini per spostare la macragna, fra stiera che c'è capo c'è se lo mette un osso, ma se non è furbo e zingere, c'è lo mette un patello, schiop e cosso. Oè, dando ciò, caso lo dievolo, rovote che lo monna, però non tu capratola, intime attendenze che ti speccano la coccia a tunnatun, caso lo tribunale stesso a pratola, che lo sa quanta sfizia sta gente si caccia essa, viene libera la spesa di giustizia, sopra tu l'ana, imparate, capratola per l'igno, lo numero nuante, non già l'igno.